Birra o Cuba Libre? Birra o Cuba Libre? Heineken o Jack Daniels? Questo è il problema, ha lo stesso prezzo. Cuba Libre o Heineken? Prima di scena. Ci sta meglio? Invece dello spritz e ugo, Jack Daniels. Cioè le Jack Danieline che devo fare? Se li sei fatti inizi a andare a posto... Cioè loro ti sbindolano. Castello Scaligero di Villa Franca di Verona, 2 settembre 2012. L'attesa dell'apocalisse. Perfect Day Festival, serata finale. C'è una polemica con le Jack Danieline. Le Jack Danieline. Una bella storia. Se piove verrà fuori una mezza food stop degli anni moderni. Se non piove forse è meglio. Ecco, abbiamo le sdondoline. Prendiamo Rai 2. Allora...